Un incendio divampato nel pomeriggio di martedì 9 luglio poco prima delle 18.30 al BNB tenuto al Galletto in via Marconi e Valperga. Le fiamme hanno avvolto il tetto della struttura, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livarolo Canavese, Quornier, il supporto di Ivrea, San Maurizio Canavese, la croce bianca del Canavese e la croce rossa di Quornier. Non risultano feriti o intossicati. Il tetto ha subito ingenti danni. Sul posto è intervenuto anche il vice sindaco Graziano Cortese. La via è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.